Ilari, come valuta questo caos in maggioranza? Quello che è accaduto giovedì scorso in Consiglio Comunale è l'ennesima prova di quanto questa maggioranza sia scollata e di quanto ognuno di loro vada per la propria strada. Fanno sorridere le lacrime di coccodrillo del sindaco Seri che per correre in aiuto dell'assessore Brunori ci lancia delle scuse a tutta la città dicendo che il buon padre di famiglia deve richiamare i propri consiglieri. Perché fanno ridere? Perché la colpa effettivamente è la sua. C'è una maggioranza nella quale non si capisce più quali siano le priorità, il sindaco Seri non prende posizioni su tutti i temi più importanti ed è normale che nella mancata condivisione ognuno cerchi di tirare acqua al proprio mulino. Io sfido chiunque a sapere che cosa voglia fare questa maggioranza sul piano regolatore, sulla variante di Gimarra e su tutti gli altri temi che caratterizzeranno la città. Quindi è evidente che ci sia una profonda spaccatura, chiaramente sono tutti ricatti e giochini e sgambetti che si fanno per portare acqua ai propri temi. L'ultimo, quello del mancato numero per ottenere l'immediata eseguibilità sulla variazione di bilancio era evidente il fatto che una parte della maggioranza volesse quei soldi non impegnati proprio per eventualmente spendere nella variante di Gimarra. Ma questo vale per tantissimi temi e io credo che Fano non abbia più il tempo da spendere per rimanere così al palo. A questo punto quali sono le vostre proposte o richieste? Le nostre richieste da buon padre di famiglia sarebbero quelle di trarre delle conclusioni sulla durata di questo esecutivo. È chiaro che in maggioranza ci sono tante personalità che potrebbero veramente fare il bene della città e staccare la spina a questa amministrazione proprio per amore della nostra città. Non da ultimo abbiamo la possibilità di salvare Aset, invece con questo attendismo del sindaco Seri si sta portando Aset verso un'incorporazione da parte di un privato. Abbiamo la possibilità di realizzare veramente tante opere. Nell'ultimo consiglio comunale si è parlato di variazioni di bilancio che avevano il loro impiego nei lavori pubblici e l'assessore ai lavori pubblici ancora non è stato nominato. Quindi vedete che è veramente complicato andare avanti in un'amministrazione del genere e in consiglio comunale si assistono a dei teatrini di cui Fano veramente non ha bisogno.